su fano tv come tutte le mattine c'è la rassegna stampa occhio ai giornali buongiorno cari telespettatori ben ritrovati allora sono le 7 per chi ci segue in diretta sul canale 17 perché ci segue in diretta anche sulla nostra pagina occhio la notizia di facebook buongiorno anche coloro invece ci guardano on demand sul portale occhio la notizia punto it vediamo il santo del giorno poi le previsioni del tempo e andiamo subito a vedere i giornali beata chiara luce badano è la beata del santo del giorno l'alba è alle 6 44 il tramonto alle 17 05 non c'è molto da dire per quanto riguarda il tempo per la giornata di oggi giovedì 29 avremo cielo sereno un po con voloso con aumento della copertura dal pomeriggio per transito di nubi medio alte stratificate ma la stessa cosa più o meno cadrà anche domani venerdì attenzione alle foschie e locali nebbie nelle vallate nelle zone di pianura anche sabato l'ultimo giorno del mese lo avremo con foschie e locali nebbie nelle vallate durante la notte o al primo mattino e questa struttura anticiclonica continuerà a mantenere condizioni di tempo stabile sologiato in tutta la regione marchia almeno fino a metà della prossima settimana ieri c'è stata la manifestazione in piazza del popolo a pesaro di cui vi abbiamo fatto vedere in diretta tutto quello che è successo le dichiarazioni dei vari rappresentanti del commercio e quant'altro di questo parlano i giornali il resto del cardino e il corriere adriatico si parla anche dell'aspetto sanitario quindi della situazione in questo momento della pandemia nella nostra regione e del galantara che torna struttura covid così come titola il corriere adriatico questa mattina una struttura già riconvertita nella prima fase a disposizione ci sono 45 posti letto ieri accolti i primi sette pazienti in arrivo altri 25 malati provenienti da scolipiceno giro di giostra tra le strutture riabilitative centropagini invece vedete serande abbassate la carica dei mille la protesta con la mascherina poi ci sono le notizie in breve con i sindacati di polizia che nincini li accuse di aver fatto politica per quanto riguarda la targa di craxi poi purtroppo donaldemiro che è peggiorato è in rianimazione la comunità prega per lui ma vedremo tra poco anche il problema delle liste d'attesa dopo la rincorsa all'ombra del virus su esami e visite e poi un imprenditore che evade il fisco sequestrati 150 mila euro operazione della guardia di finanza il carlino di pesero l'orgoglio e la rabbia titolo della foto notizia di questa mattina ristoratori baristi titolari di agenzie viaggi piscine palestre 400 in piazza del popolo vogliamo lavorare ed essere rispettati dicono le storie drammatiche di chi teme di non riaprire l'apertura è per gli esami difficili la rivolta dei diabetici l'associazione che riunisce 8 mila pazienti controlli dicono cancellati o rinviati di 10 mesi l'asur intervenga e poi la paura del virus tiene lontani i figli dalla ex moglie lui è stato prosciolto il giudice ha definito giusta la prudenza di questo padre che aveva evitato ai figli di andare a trovare la madre durante il primo lockdown a mondolfo invece aveva distrutto tutte le carte i documenti un falegname e anche evasore che è stato condannato sul rossini opera festival invece d'autunno sì al barbiere in due versioni in due visioni in streaming quindi su internet ma anche a teatro e poi il calcio dilettanti tutti a casa fino a gennaio dall'eccellenza alla seconda categoria campionati sospesi ecco le date dei recuperi in una settimana 2764 positivi nella nostra regione 32 pazienti in terapia intensiva ieri 351 positivi su 1731 tamponi la provincia più colpite quella di ancona con 125 casi i sintomatici sono 44 in tutta la regione san benedetto un'altra vittima del covis covid invece ecco la lista d'attesa queste sono le notizie sulle quali un attimo bisognerebbe soffermarsi un po perché c'è c'è l'ombra del covid su esami e su sulle visite i disagi veri iniziano adesso l'annuncio degli ospedali riuniti torrette di 48 ore fa l'annuncio è stop e recovery programmati garantite le urgenze prosegue l'attività ambulatoriale proietta la sanità delle marche nella dimensione parallela che tutti speravano di evitare dopo la scorsa primavera in termini di sanità diagnostica o visite specialistiche significa che di questo passo prestazioni diverse da quelle urgenti che devono essere garantite entro 72 ore o quelle brevi entro dieci giorni torneranno tutte le altre nella grande nebulosa dell'attesa e quindi anche se l'assessore regionale di santamartini ha detto che gli ospedali devono continuare a erogare la sanità ordinaria c'è stato un richiamo qualche giorno fa anche del presidente della repubblica mattarella non si muore ha detto il presidente solo di covid sul carlino invece l'attenzione è per chi ha il diabete gli esami rinviati di mesi i reparti trasferiti lo dissiede i diabetici l'asuro intervenga prima del covid si facevano due controlli all'anno adesso vengono cancellati anche a pochi giorni dall'appuntamento e slittano a date lontanissime diabetologia da pesaro trasferita a fano certi malati devono percorrere 30 chilometri per un documento e poi l'annuncio sempre dell'assessore saltamartini dice test sierologici in farmacia entro breve tempo ci sarà oltre a questo ha detto saltamartini anche la liquidazione del premio covid agli operatori sanitari entro la prossima settimana accordo sui tamponi rapidi da medici di base e pediatri in farmacia solo i sierologici dopo il patto nazionale la regione ora punta ad aumentare il tracciamento l'assessore saltamartini dice alle marche servono soprattutto i test antigenici dunque tamponi rapidi che si potranno fare dal medico di medicina generale e anche dai pediatri di libera scelta la sigla definitiva dell'accordo tra le categorie del ministero della salute è arrivata ieri e garantisce un'arma in più per il tracciamento dei contagi dal covid 19 procedura in affanno in seguito all'impennata dei casi di positività ad annunciarlo è appunto roberto speranza il titolare del castello quindi ministro e la notizia è stata accolta positivamente anche a palazzo raffaello di ancona e poi ci sono le parafarmacie che dicono beh ci siamo anche noi anche noi in trincea e dunque anche noi siamo disponibili poi c'è anche un sostegno che non è da meno di quello come dire materiale quello con la pasticca da prendere insomma è l'aiuto psicologico a volte la testa fa fare ragionamenti strani e mette in pratica paure che poi complicano la vita di tante persone allora bisogna in questo caso quando si è presi dall'ansia dagli attacchi di panico da paure incontrollate e quant'altro c'è la necessità di ricorrere anche alla agli psicologi e il percorso di ascolto istituito dalla psicologia degli ospedali riuniti di ancona rende noto l'azienda ci sono queste persone che possono rispondervi un numero di telefono che adesso vedete qui sul vostro televisore e che è operativo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 per tutti gli altri c'è come sempre rosario che è fantastico allora rosario a parte adesso torniamo ai giornali torrette marche nord e fermo gli ospedali subito in prima linea il piano pandemico della regione prevede strutture pulite e con positivi nella prima fase lo tsunami covid ha colto il sistema sanitario impreparato travolgendo le strutture ospedaliere e portandole ad un passo dal collasso per evitare che l'eventuale recrudescenza del virus ora diventa che è diventata purtroppo un po' certezza ricreasse la stessa situazione di caos la regione ha rivisto e corretto durante l'estate il piano pandemico comprensivo della riorganizzazione delle attività di ricovero e ambulatoriali nelle strutture ospedaliere pubbliche e private intanto questo è il fronte diciamo sanitario quello economico legate sempre ovviamente al virus ci racconta di una manifestazione ieri in piazza del popolo queste sono le fotografie che pubblica il Corriere Adriatico da sinistra il prefetto Vittorio Lapolla che ha incontrato i rappresentanti delle categorie poi la piazza vista dall'alto dal basso e quant'altro vedete quanta gente con cartelli esposti ebbene la carica dei mille grida in piazza ma la rabbia mette la mascherina grande manifestazione di tutti i lavoratori piegati dall'ultimo dpcm senza dimenticare però le regole quindi la mascherina e il distanziamento tutto chiuso così la città morirà dicono delegazioni accolte dal prefetto Lapolla e dal sindaco Ricci la richiesta dei manifestanti esonero dalle tasse contributi e imposte almeno fino al 31 dicembre e chiusure posticipate alle 24 il carlino la piazza dei 400 qui ci sono 600 in meno ma poco importa comunque al di i numeri insomma la partecipazione è stata è stata importante bar ristorante tante altre attività tutti uniti contro le chiusure no a umiliazioni o elemosine i cinque punti richieste come richiesti come abbiamo visto zero tasse fino al 2021 fondo a fondo per soldi a fondo perduto ripristino degli orari quindi dalle 18 la chiusura alle 24 credito d'imposta e rateizzazione delle bollette che ovviamente continuano ad arrivare nella buca delle lettere poi attimi di silenzio col cartello delle tasse in mano e poi in sincronia lo strappo liberatorio immagine che effettivamente come coreografia ha reso l'idea insomma è stato molto d'impatto lo potrete vedere questa immagine della rottura dei cartelli in sincro anche sul nostro telegiornale che andrà in onda in replica fino alle 13 e 30 l'assessore baldelli invece che era presente ieri in piazza del popolo a pesero dice riflettiamo sul ricorso al tar contro il dpcm per l'amministrazione regionale le misure di ristoro sono totalmente insufficienti intanto la minoranza dice adesso tocca alla regione fare tutto il possibile biancani e vitri del pd dice l'ente ora faccio quello che deve sulla pagina invece di senigallia e qui andiamo alla cronaca invece un fatto particolarmente bisognerà aspettare adesso qualche ora perché le indagini sono in corso ma la notizia è insomma fra un certo effetto una donna che è stata aggredita sul lungomare e adesso è in gravi condizioni addirittura ricoverata in prognosi riservata al regionale di torrete era in bicicletta e un uomo gli si è scagliata contro mentre andava in bicicletta è una 35enne georgiana adesso si trova ricoverata in prognosi riservata è giallo su quanto accaduto ieri mattina poco dopo le 11 sul lungomare mameli all'altezza della frazione cesano secondo alcuni testimoni che hanno assistito da distanza alla scena un uomo si sarebbe avvicinato la donna ed avrebbe iniziato a picchiarla ripetutamente per poi scappare lasciandola a terra immediati i soccorsi aggressione shock titola invece il corriere adriatico sul lungomare la ragazza in prognosi riservata bloccata mentre andava in bici la 35enne presa a calci e pugni milza lesionata e lacerato un rene è successo appunto ieri mattina si tratta di una georgiana che vive da tempo in città da circa 35 anni ma che ultimamente era alloggiata in un convento ieri mattina poco prima delle 11 stava transitando in bicicletta all'altezza del cesano quando quest'uomo l'ha aggredita e le uniche informazioni che la polizia ha sono quelle fornite da un testimone anche perché la donna essendo in prognosi riservata ancora non può parlare quindi necessariamente bisognerà attendere che la signora questa donna si riprenda e poi possa raccontare soprattutto se conosceva o meno l'aggressore perché se non lo conosceva affatto questo è un problema resta comunque anche se lo conosceva ma comunque è un doppio problema mentre sulla immagine sempre dalla pagina sinicale del Corriere Adriatico il fermo immagine di una web di una videocamera di sorveglianza all'interno di un ristorante il ristorante La Lampara ebbene mostra il giovane ladro questo ladro mentre mentre ruba dalla dalla cassa il ladro è stato arrestato però subito lì in libertà i carabinieri lo bloccano è un che ha fatto un ride dentro praticamente due ristoranti a sempre Senigallia tre container vicino al pronto soccorso ciascuno avrà otto posti per l'osservazione una sorta di triage l'area vasta 2 attrezza gli ospedali per far fronte all'avanzata dei contagi il direttore dice il piano però può cambiare mentre serve il covid hotel ma la caritas non può sostenerla in costo il direttore dice la struttura è fondamentale per le famiglie l'albergatore di Marzocca ha già dato la sua disponibilità dalla valle del Cesano da Mondolfo nei giorni scorsi vi abbiamo dato la notizia di Don Aldemiro che aveva rassicurato dicendo sì ho preso il covid sono in ospedale adesso purtroppo le sue condizioni ultimamente in queste ultime ore sono un po' peggiorate e dunque adesso è in rianimazione Don Aldemiro Giuliani è un sacerdote di 86 anni è stato colpito da una grave forma di coronavirus che lo ha gravemente debilitato scrive Jacopo Zuccheri sul Corriere di questa mattina e dopo un primo iniziale ricovero lunedì quando il sacerdote sembrava essersi in qualche modo ripreso l'altra notte lo scenario si è tramutato e ora l'intera comunità mondolfese e non solo prega per lui infatti Don Aldemiro è stato urgentemente ricoverato nel reparto di terapia intensiva per una gravissima forma di insufficienza respiratoria indotta probabilmente dall'eccessiva risposta immunitaria che il coronavirus scatena nell'organismo mentre sulla pagina del Carlino, pagina 27 del Carlino di Fano il Vescovo di Fano Armando Trasarti non s'arrende, titola il giornale Rondini in fondazione, intanto non hanno raggiunto il quorum come soci diversi personaggi legati comunque alla curia ovvero Magnanelli e Tomassini dell'Acli forse si andrà verso un'assemblea riparatrice nei prossimi giorni intanto l'uomo di Trasarti è anche manager di una società di Corrado Montanari biglietterie prevendite online il grido della Gostec 17 lavoratori sono a rischio l'azienda fanese controlla il sito Live Ticket la cui attività è stata di fatto azzerata dall'ultimo DPCM chi ha chiuso cinema, teatri e palace la CNA dice questa serrata è un errore la pagina di Fano del Corriere evade il fisco condannato un imprenditore sequestrati 150 mila euro tra conti e beni operazione della Guardia di Finanza incastrato un titolare di una ditta individuale di infissi e porte in legno caro istinto in sicurezza ma mancano i loculi effettuati i lavori agli ingressi con tanto di sanificazione il problema sono le salme che restano in attesa chiusure e licenziamenti sempre da Fano del Corriere Adriatico SOS dei lavoratori Fano non ha i fondi lockdown come Pesaro Pesaro ha avuto recentemente un milione riunione online tra seri, lucarelli, cucchiarini e associazioni occupazione del suolo pubblico estesa fino al 31 di dicembre isolamento in casa servono aiuti, il Movimento 5 Stelle incalza la Giunta e chiede soluzioni per le famiglie sgravando il Santa Croce a Urbino Sgarbi lancia le proordinanze su tutto la conferenza stampa per la chiusura della mostra su Castiglione è diventata l'occasione per fare provocazioni contro le scelte del governo DPCM per il virus ammazzata sullo schermo il Cinemateatro Ducale Urbino e il Nuova Luce chiusi nonostante i sacrifici fatti speriamo negli aiuti di Stato il Corriere Baldassare Castiglione ha fatto il pieno nel 2021 ricostruiremo la Corte Ducale dice Sgarbi da luglio a oggi 226 visitatori al giorno su un massimo consentito di 240 Sgarbi e Gambini ancora dicono celebrazione il Consiglio invece omaggia Stocchi Ateneo cresciuto sabato passaggio di consegne con il successore Calcagnini subito innamorato della città Valmetauro la fioriera siamo a Fossombrone la fioriera mobile resta ferma gettate al vento 14 mila euro doveva delimitare l'isola pedonale il Consigliere Chiarabili dice nostre proposte che sono state respinte e poi andiamo sulla pagina di Fano del resto del Carlino ore 18 cigolano le serrande poi il silenzio il centro storico si spegne qualche passante resiste ma per poco viaggio nella città trasformata dalle regole tra rabbia e rassegnazione prima ci hanno chiesto di tutto ed ora ci affossano pensi la regione a cambiare la marcia intanto al bar si fa il conto alla rovescia io per ora chiudo alla piadineria ci credono ancora invece e dicono noi inaugureremo allora c'è chi apre c'è chi chiude nega i figli invece all'ex compagna per paura del virus un padre prudente viene però prosciolto il PM aveva chiesto l'archiviazione la donna invece si era opposta ma il GIPA ha accolto alla tesi della procura per i giudici quell'uomo ha fatto bene ad evitare gli incontri della prole con la madre durante il lockdown in quei giorni di chiusura totale la madre voleva vedere i bambini ma il suo attuale compagno era in quarantena andiamo ad Apecchio dove c'è la storia raccontata da Amedeo Pisciolini di una donna che ha lasciato questo mondo deceduta martedì alla soglia dei cento anni una donna che evidentemente nel paese di Apecchio ha lasciato il segno come stiamo raccontando anche in questi giorni la storia che svanisce addio a Rita questo è il titolo aveva quasi cento anni la signora Pisciolini che ad Apecchio ha gestito la macelleria un'osteria e anche la trattoria insomma ecco quindi Amedeo Pisciolini racconta di questa figura di questo personaggio che ha lasciato appunto a tutti un buon ricordo invece c'è la pagina del resto del Carlino sempre di questa mattina la storia di una ragazzina che ha soltanto 15 anni è pesarese si chiama Sofia Sofia Cerio anzi e qualcuno probabilmente l'avrà vista con la divisa del collegio che è un programma che che va in onda su Rai 2 dove c'è il meglio no il peggio sì della gioventù poi c'è il reality e quindi non si sa bene effettivamente quanto ormai questi ragazzi siano lì perché sono così oppure sono lì perché indossano i panni di un personaggio che nelle loro aspettative probabilmente dovrebbero lanciarli poi nel mondo dello spettacolo di qualcosa non lo so comunque sia è un reality è anche fatto bene perché comunque è strutturato bene non è male però ecco vedere tutti questi giovani un po' così sbandatelli Sofia un po' invece è un caso a parte Sofia perché comunque è una bravissima ragazza che tra l'altro da quello che leggevo da qualche parte in quest'articolo addirittura conosce conosce molte lingue è una studentessa modello e quindi insomma e tra l'altro lei che ha vinto il primo colpo al primo colpo ha vinto subito un titolo come migliore studentessa della prima settimana televisiva ecco questo per dire insomma poi chi ha voglia di dargli un'occhiata ci sono anche i social e ci sono i siti internet che fanno vedere spezzoni di questo programma adesso siamo alle pagine dello sport siamo alla pagine dello sport con questo titolo d'apertura sul Corriere Vis con il Gubbio è quasi un derby è di quelli tosti per Galderisi l'allenatore Crespini e Marcini e Marchi scusate sarà un importante ritorno al passato ma a Pesaro ci sono anche altri Umbri a cominciare da Stramaccioni mentre i giovani si fermano almeno fino al 24 di novembre secondo il DPCM stop alle giovanili non si salva nemmeno la Primavera 3 sul fronte Granata invece il Fano a caccia di punti dopo l'immeritato K.O. Casalingo con il Mantua i Granata preparano la trasferta di Ravenna sarà uno scontro diretto in chiave salvezza l'Alma ha bisogno di una boccata d'ossigeno nell'estate scorsa proprio con i romagnoli poi ripescati arrivò la salvezza ai play out ma voglio salutarvi salutarci con questa questa notizia che ho tirato giù dalla pagina 19 del resto del Carlino è sempre in ambito sportivo ma andiamo a vedere il titolo Nello spogliatoio tutti schiavi del cellulare la foto postata da Murigno 57 anni con i calciatori del Tottenham quindi non stiamo parlando di semi professionisti stiamo parlando di gente che guadagna milioni e milioni di euro e che guardate dalla fotografia sono tutti attaccati allo smartphone nello spogliatoio e lo sfogo di Murigno qual è? dice di loro sono campioni senza gioia posta una foto dei giocatori dopo una vittoria guardate il segno dei tempi nessuno ormai riesce a staccarsi dai social e quindi dopo una partita vinta tra l'altro anche con difficoltà eccetera al posto delle paccate di spalla degli abbracci è vero adesso siamo in epoca covid magari pochi abbracci però guardateli tutti lì dice Murigno una scena guardate la foto è eloquente straordinaria con la sua espressione con la mano come dire guardate come sono ridotti ecco questo per dirvi e con questo ci lasciamo facendo appunto questa riflessione perché poi sostituitelo spogliatoio al nostro salotto di casa alla nostra cucina a tutto il resto ci siamo noi al posto dei giocatori e allora noi con questo finiamo qui questa nostra rassegna stampa il commento alla stampa del giorno che torna domani mattina puntuale alle 7 tra poco la Santa Messa in diretta da Loreto poi il telegiornale di questa sera alle 20.30 al quale come sempre potete anche voi collaborare come con i vostri messaggi i vostri video le vostre fotografie da inviare con whatsapp al 338 4968 250 buona giornata a tutti